Siamo alla 629esima pagina, è una specie di maratona. Mi sembra che stia andando bene, nel senso, a parte i nomi, a parte qualche Yevveksgatan di qua e di là, però, insomma, mi sembra che stia andando bene, fece una pausa. D'un tratto Michael fu incapace di incontrare lo sguardo di Lisbeth Salander e preferì fissare il tavolo. Insomma, avendo fatto la camera azzurra di Simenon, mi ero reso conto che mi piaceva di più leggere non sapendo quello che sarebbe successo, perché mi piace sorprendermi mentre leggo, così come un ascoltatore, no? Si può avere rispetto per qualcuno, ma se non c'è la fiducia, la confidenza, l'amicizia si guasta. Lei continuava a tacere. Ho capito che non vuoi parlarmi di te, ho capito che non vuoi parlarmi di te, ma un giorno o l'altro dovrai decidere se ti fidi di me oppure no. Mi sono ritrovato a raprividire, perché alcune atmosfere poi sono lì che mi... quando sento che c'è un cambio di atmosfera, allora improvvisamente la mia voce cambia, perché in quel momento io sono lettore. Sì, torniamo al lavoro.